Si torna a morire con il covid in Abruzzo, cosa che non accadeva dallo scorso 28 luglio. Il decesso odierno riguarda un anziano di Castiglione Messerraimondo, la cui positività al covid era stata annunciata sabato pomeriggio dal sindaco Vincenzo D'Ercole. L'uomo, 76 anni, era ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato trasferito dal San Liberatore di Atria a seguito della positività al tampone. Secondo quanto confermato dal sindaco, il 76enne aveva un quadro clinico già grave e soffriva di un'insufficienza renale. Ora il numero delle vittime da inizio emergenza coronavirus nella nostra regione è di 473. E mentre si attendono i dati ufficiali per la giornata odierna dai 50 tamponi effettuati via il discorso nella Pilkington di San Salvo, sono emersi altri tre casi che si aggiungono al lavoratore ricoverato in terapia intensiva. I nuovi positivi al covid sono asintomatici e lavorano in officina manutenzione. La squadra di turno odierna del reparto è rimasta a casa in attesa dell'esito dei test, mentre il personale delle ditte esterne è stato temporaneamente sospeso. Il personale della ASL Lanciano Vastocchieti è presente anche oggi in fabbrica per sottoporre al tampone altri lavoratori. Nel frattempo, nello stabilimento sono scattati i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Questa mattina è in programma la fine dell'incontro tra sindacati e azienda, iniziato venerdì.